Federico Negri, il ragazzo di Pozzolo Formigaro, prigioniero in India dalla fine di luglio, sta abbastanza bene. A dirlo il consolo italiano in India, che ieri come da programma ha potuto visitarlo in carcere, parlargli per due ore sempre in italiano e portargli alcuni generi di conforto. Cibo italiano, una carta di credito ricaricabile per comprare genere di prima necessità e le lettere dei familiari. Lo conferma Claudio Falleti, legale della famiglia, nonché esperto di diritto internazionale. Molta disponibilità abbiamo riscontrato da parte del sovraintendente nel penitenziario, il quale si è messo a completa disposizione di Federico per qualsiasi richiesta. Ovviamente ringraziamo il console Dandrassi, nonché il nostro ambasciatore a Nuova Deli, il dottor De Luca, per la vicinanza e per il supporto in questo momento. Certi che stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, seguendo l'itra giudiziaria di Federico, nella speranza che possa essere scalacerato su cauzione, ma soprattutto che possa fare presto rientro a casa. La vicenda dell'incredibile succede spesso però. Federico Negri è un ragazzo abituato a viaggiare, lo fa da anni, zaino in spalla e pochi soldi nel portafoglio. Poi, arrivato sui posti, si cerca sempre qualche lavoro per mantenersi e per dare una mano anche alle popolazioni locali che incontra sul suo cammino. Fino a luglio di quest'anno nessun problema, a parte la pandemia. Sarebbero proprio le restrizioni da Covid che lo hanno incontrato mentre era in viaggio, con il conseguente fermo da lockdown, a non avergli consentito di rinnovare alcuni visti. E così, quando quest'anno la mobilità è diventata decisamente più libera, dal Nepal si è spostato in India per rinnovare i visti e per ritornare finalmente in Italia. Ma proprio quel visto scaduto e il non pagamento di 40 euro gli sono costati la prigione in India. Il paese prevede una pena per questo reato da due a otto anni. Il processo dovrebbe iniziare il 5 ottobre. Entro la fine di settembre il consolo italiano andrà a trovarlo ancora una volta. Sono infatti permesse le visite una volta al mese. E si spera che la situazione di Federico Negri si possa risolvere almeno con un rilascio su cauzione.